aspetta ora ci sono cascato anch'io si è capito devi stare attento che non abbia un turno in mezzo ma io quando sono così che mi dico andate ad andare in turno dalle 13 alle 19 ma sai che cazzo me ne prega se ha fatto 36 ore di lavoro niente eccoci ruota quadrata super non mi mancavano questi freni si può salire anche qui e nessuno ce lo vieta si può salire anche qui e nessuno ce lo vieta eh si sale e si va alla 8 dov'è il problema non mi mancavano non mi mancavano non mi mancavano non mi mancavano ma avevo detto alle 4 comunque vengo prima dovrò correre di America ma che scherzi certo no no Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.